Ben tornati miei cari su Pokémon versione Argento SoulSilver! Nello scorso episodio abbiamo esplorato Fjordoropoli, anche se non del tutto, ma in questo episodio finiremo il nostro giro e andremo anche nella palestra. E a tal proposito, vi do alcune dritte. Se non siete pronti o non vi sentite pronti, vi consiglio caldamente di andare nel percorso 35, a nord di Fjordoropoli, tanti allenatori, tanta esperienza e perché no? Comunque io non ci andrò perché? Perché amo le sfide. Ma, già, la palestra è di tipo normale, è di tipo normale, c'è scritto anche qua sopra se non sbaglio. No, però è di tipo normale, ve lo dico subito. È molto complessa e difficile per essere appunto la palestra numero 3. Quindi attenzione, ora, Chiara dov'è? Chiara è corsa perché voleva una scheda radio. E grazie ai consigli utili, che molti di voi diranno sì, cosa i consigli utili, però sì, i consigli utili che stanno appunto qui sotto, ora andremo a vederli perché voglio farlo, Chiara è andata a prendere una scheda radio. E la scheda radio dov'è, se non... vai, parlaci. Nella torre radio di Fjordoropoli, ecco. Adesso, se non avete visto il messaggio del fatto dei consigli utili, guardate due episodi fa. Comunque, andiamo subito, subito, subito alla torre radio, perché ho tante cose da fare e dobbiamo anche fare il casino, che è un vero e proprio casino, letteralmente. Comunque, parliamo con te e tu che mi dici? Ti do il benvenuto nella torre radio di Fjordoropoli. Grazie. Tu? Questa è l'angolo lotteria Pokémon. Io sono Felicity, a tua disposizione. Se il numero del tuo biglietto corrisponde al numero di identità di uno dei tuoi Pokémon, vincerei fantastici premi. Adesso, più Pokémon scambiate, più possibilità avete di vincere all'otto. Qui. Adesso, non so il mio, appunto non il mio ID, ma il premio finale, il primo premio, ossia tutti i numeri combacianti, sì, combacianti, che combaciano, insomma, con l'ID di un vostro Pokémon, vi daranno un premio fantastico, ok? Diciamo solo questo. Comunque, andiamo prima qui, perché non c'è niente da vedere. Qua sotto al primo piano, no, assolutamente niente. E qui c'è un Jigglypuff. Ok. Adesso, qui non c'è nulla da fare, non ci sono strumenti, non ci sono informazioni utili, se non qua sotto, ma lo vedremo appunto nel prossimo episodio. No, lo vedremo tra molti episodi. E basta. Comunque, qui c'è una signorina con i capelli rosa. Mi presento, sono la piccola Chiara. Sai che fanno? Un quiz in cui si vince una scheda radio. Ebbene, anche io sono venuta fin qui per partecipare, ma le domande sono difficilissimissime. Ok. Quali sono le domande? Campagna promozionale. Se rispondi correttamente a cinque domande, vinci una scheda radio. Proviamoci. Se le inserisci nel Pokegear, puoi ascoltare la radio quando e dove vuoi. Vuoi partecipare al quiz? Ovvio. Prima domanda in arrivo. È possibile vedere la mappa citata tramite il Pokegear? Sì, possibile. Risposta esatta. Passiamo alla prossima domanda. È vero che in Nidorina ci sono solo esemplari femmine? Nidorina è sempre femmina. Sì, ovvio. Risposta esatta. Non riesco a dire esatta. Risposta esatta. A seguire la terza domanda. Per produrre le Pokeball, l'artigiano usa le bicocche? No, usa le ghicocche. Magikarp non può usare nessuna macchina tecnica, è vero? Adesso, questa è un po' più complessa del solito, ma conosce solo quattro mosse, quindi non può usare, è vera, giusto? Strepitoso. Ed ecco l'ultima domanda. Insieme a Dory, che il professor Rock presenta alla famosa trasmissione Pokémon Talk, Lory, giusto? Ce l'hai fatta, complimenti. Hai vinto una scheda radio. Ora tu anche sposare il Pokegear come radio, cosa molto utile e importante. Ma anche no. Wow, ma sei un fenomeno. E io ero convinta che la risposta alla terza domanda fosse Bicocche. Bicocche? Davvero? Oh no, devo già tornare in palestra. Adesso, se non sapevate appunto chi era... Bella signorina, bastava appunto andare qui sopra, perché se non sbaglio, questa qui sotto, ossia tu, dovresti essere Lory. Ah, buona. Ok. Ah no, scusatemi. Comunque dovrebbe essere Lory. Ah, ah! Bene, c'è stata una carta blu. Va bene, non importa. Adesso. Password show. È vero, è importante. E cos'è la carta blu? Ora, raramente l'ho usata. Non l'ho usata mai. Però, la carta blu può essere abbastanza utile, tosta. Eccola qui. In pratica, carta su cui cumulare i punti del programma password show. E possiamo anche non farci niente. Comunque. Adesso, se andiamo nel Pocagear, appunto, abbiamo l'opzione radio, ossia questa. Possiamo sintonizzarci. Vedete che la stiga delle tre cose più belle nella tua città, bla bla. DJ Timmy. Lory. Vedete? Lory e Oak. Lo sapevo già. E qui? Dalla mia storia personale. È l'ora di tanti piaceri, bla bla. Salve a tutti i nostri radioascoltatori. Un saluto dalla vostra insostituibile Buena. Ebbene, la vasola del giorno è Pozione. Non dimenticatela. Vi aspetto alla Torre Radio di Fioradolopoli. Accorrete numerosi. Ok. In pratica, dicendo Pozione a Buena, dovrebbe dirci qualcosa, giusto? Zero? Ok, va bene. Sì, me la ricordo. È Pozione. Come lo tu di chiamarti? Bene, Tonks. Sarai ospite nella trasmissione di oggi. Davvero? Non ho mai fatto questa cosa. Pozione. Benissimo, risposta esatta. Vuol dire che hai ascoltato lo show. Sono felice per te. Hai vinto un punto, complimenti. Sintonizzati anche domani. Ora, non mi ricordo per niente a che servono questi punti, però... Wow, tieni un bel premio. Pokéball. Esatto. Otterremo strumenti facendo questa cosa delle password. Ed è una cosa abbastanza divertente. E penso di farla off camera nei prossimi giorni, se sono ancora a Fioradolopoli. E basta. Adesso. Ho i Pokémon pronti? Sì. E dunque, è il momento di andare nella palestra di Fuxiavoli, come no. Di Fioradolopoli. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Già sto tremando al solo pensiero. Comunque, andiamo subito qui dentro e... Ehi, campione del futuro. Questa palestra è per allenatori di Pokémon di tipo normale. Ve l'avevo già anticipato. Ti raccomando di usare Pokémon di tipo lotta. Appunto, Machop si può ottenere prima... Abbiamo già visto. Prima. Burp. Si può ottenere nel centro commerciale. Comunque. Uno, due, tre... Quattro... Sto prendendo gli allenatori, eh. Facciamo che li sfido tutti quanti perché devo avere i punti di esperienza. Quindi, cominciamo. Allora. Sei una persona davvero simpatica. Mi piace, mi piace, mi piace. Non mi farò intenerire. Ma non mi farò intenerire. Allora. In questa palestra usano la maggior parte degli allenatori. Non Centret. Magari se tu avessi mandato il Pokémon peculiare di questa palestra, tra virgolette. Ma non importa. Allora. Livello nove. È un livello estremamente basso rispetto al nostro. Ma tenete bene in mente che la capopalestra è una spina nel fianco, negli occhi, nelle budella, nel cuore, nella carotide e nel piede. Già. È così fastidiosa. È come essere... Non lo so. Come combattere contro un Rajang infuriato. Ecco. Per chi conosce Monster Hunter. Adesso. Un altro consiglio. Se non siete al livello minimo 20, correte subito ad allenarvi. Subito. Con i vostri Pokémon principali. E... Poi basta. Non avrei nient'altro da dirvi, quindi... Già. Se magari mandi... Hai solo Centret? Davvero? La cosa brutta è che ho paura di allenare troppo Maxwell. Perché vedrete poi il senso. Però fortunatamente abbiamo altri Pokémon deboli. Tra virgolette. Abbiamo Ekans. Che è ancora il 3 se non sbaglio. Ma per questa palestra Ekans è estremamente utile. Estremamente. Già. Non solo utile. Ma estremamente utile. Comunque usa pure attacco rapido. Non mi interessa. E... Thundershock. Ho la gola un po' secca. Sto registrando da... Un bel po' di tempo. Anche lo scorso episodio ho registrato. E... Ho tipo dovuto riniziare questo episodio tipo una quindicina di volte. Perché non riuscivo appunto a narrare bene. Almeno l'inizio. E quindi... Vediamo. Oh è già finita? Sono bellezze queste. Danno anche un bel po' di dindi. Aggiungerei. Adesso. 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 Sì. Tocca... Te, mia cara. Vedi di impegnarti? Ti distruggerò. Calmati, signorina. Calmati. Si calmi, signorina. Adesso. Meo. Sì, è Meo. Meo. Meot. Meo. Meo. Dovrebbe essere Meo. Adesso. Parliamo di Meo. In prima generazione. Questo coso. E Persian. Erano... Bestie. Letteralmente. Bestie. E anche qui. Non sono per niente male. Quindi. Se volete un Pokémon. Veloce. Con stab di lacerazione. Quindi è buono. E attacco abbastanza alto. Subito. Con Meo. E Persian. Meo, vero? O Miao? Ok. Adesso. Questa è una cosa molto discussa. Perché prima. In italiano. I doppiatori. Lo chiamavano Meo. Adesso. Lo chiamano Miao. Tipo. Qualcosa del genere. Non ricordo. E francamente. Mi interessa poco. Io lo chiamo Meo. Vai. Tuono Shock. E ottusi oppure Morso. Morso è di tipo Bug. Attenzione. Tanto non dovreste avere Pokémon di tipo... Ah no. Invece sì. Se usate Abra. Che si cattura nel percorso precedente. Oppure. Drowsy. State attenti appunto ai Meo. Perché hanno Morso. Pronti? Lacerazione. Ve l'ho detto esiste. E fa anche brutto colpo a volte. Quindi attenzione. Tuono Shock. Ciao ciao Meo. E... Già che ci siamo. Dai. Dai che manca poca esperienza. Dai che manca poca esperienza. Ok. 22. Diletta sconfitta. No. Oh Meo. Mi dispiace. Non so che voce dare a queste ragazze. Ma... Ok. Adesso. Asta. Asta carissimo. Andiamo subito a sfidare gli ultimi due allenatori. E poi tornate subito al centro Pokémon. Fidatevi di me. Vi serve essere a vita piena. Ok. Vita ultra piena aggiungerei. Adesso tu un'altra e poi dovresti aver già notato una certa cosa di questa palestra. O meglio come è costruita questa palestra. Carolina che manda Snubbull. Abbiamo già parlato di Snubbull quindi non ne riparlerò. E basta. Hai prepotenza quindi userò Bracere. Adesso. Brucia. Brucia. Magari scottarti sarebbe anche una cosa buona e giusta. Oh fallisce Snubbull. E' vero. Perché fallisce Visotruscia in questo caso? Perché Snubbull ha un'abilità chiamata tutta fretta. Ossia. Credo. Ce l'ha tutta fretta? Sì. Dovrebbe averla. Ossia. Aumenta l'attacco. Ma diminuisce la precisione di tutte quante le altre mosse. Di tutte quante le mosse in generale. Quindi occhio. Perché. Sì. Può essere molto fastidioso se vi attacca. Ma potrebbe mancarvi. Quindi scialla. Comunque. Questa tizia qui. Dovrebbe avere. Clefairy. Vero? Dimmi di sì. No. Ha un Jigglypuff. Che comunque. Devo spiegarvi. Adesso. Jigglypuff. Jigglypuff. Pallina rosa che somiglia a Kirby. Ma non è Kirby. Ed è. Me. Ok. Ci sono Pokémon di tipo normale. Migliori. Come ad esempio Clefairy. Clefairy è meglio di Jigglypuff. Tanto per dirlo. Si evolvono entrambi con pietra lunare. Che si trova qui. Non mi ricordo dove. Ma si trova. E basta. Sono Pokémon resistenti. Anziché Wigglypuff può essere un buon attaccante speciale. Nonostante la sua statistica non sia buona. Non sia eccessivamente buona intendo. Perché impara tutto. Impara lancia fiamme. Impara geloraggio. Impara fulmine. Impara tutto. Impara. Però tramite MT. Non tramite livello. E un altro Jigglypuff. Quindi nessun Clefairy. Per oggi che ci siamo ve lo dico. Adesso. Se avete visto bene. Le pareti di questa palestra. Formano appunto. L'immagine. L'icona. Di un Clefairy. Ed è una cosa davvero carina. Infatti adesso usciremo da questa battaglia. E ve lo mostrerò. Brigitta. Oh no 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 no. Ecco. Vedete? È un Clefairy. Questa è la bocca. Questa è la manina. Questo è. Non mi ricordo cosa. Però sì. È un Clefairy. Ok? Adesso. Torniamo subito al centro Pokémon. E andiamo a curarci. E poi. Voi sapete. Io. non salvo mai. Davanti ai capopalestra. E questa potrebbe essere la mia fine. Ok? Dato che io non salvo mai per paura di corruzione del salvataggio. Mamma. Strumenti? Sì. Ok. Magari è un qualcosa di davvero utile. E comunque vostra madre può regalarvi. Tra virgolette. Può comprarvi. Un appunto pietra lunare. Quindi può essere utile. Controllare appunto il Pokémon Market. Adesso lo controlleremo. Questa parte sarà leggermente più lunga del solito. Faremo anche il casino. Ricordo. Ricordo. Adesso tu mi dai appunto. Un repellente. Che è utile. Non è ultra utile. Ma è utile. E basta. Vero? Sì. Quindi. Curiamoci subito. E ora. Se avete i vostri Pokémon principale. Principale? Principalli. Tutti maschi. Siete nei guai. E io casualmente. Ho tutti i miei Pokémon principali maschi. Ciò vuol dire che. Vedrete appunto. La difficoltà. Non difficoltà eccessiva ovviamente. Ma il fastidio. Ecco. Il fastidio è meglio. Ora. Arrivederci. Userò una strategia. Un po'. Non è un trucco. Perché il gioco ve lo permette. Però è necessaria per vivere. Per non impazzire. Quindi. Andiamo subito qui dentro. E. Andiamo da Chiara. Andando qui si fa prima. Vero? Mi sa di sì. 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 Ok. No. Non si fa per niente prima. Dovevo andare sopra. Ma non importa. Adesso. Qui. Qui. E userò. Astraloth per primo. Sì. Ok. Facciamo una cosa. Chiara. Così. Boh. Usiamo Beilith. Eh. Sei Beilith. Non so perché li confondo. Ehm. Maxwell. Per la miniatura intendo. Non per altro. Ehm. Ok. Perfetto. E adesso? Astraloth per primo. Tenetevi pronti. No. Ok. Sì. Sì. Ok. Dobbiamo avere Ekans. Rattata. E Roccio. Ci serviranno anche loro tre. Togepi no. Ma loro tre sì. Quindi. Cominciamo. Ciao. Sono Chiara. Piuttosto. Tu non eri alla torre radio? Allora. Vedo che le né i Pokémon. Tutti sono nel mondo dei Pokémon. Così ci sono entrato anch'io. I Pokémon sono carinissimi. Vuoi adottare? Sono forte. Ti avverto. Parte la sfida di Chiara Capopalestra. Che manda in campo Cleferi. Ve ne ho già parlato. Cleferi è buono come Pokémon. Meglio di Jigglypuff sicuramente. Ora. Cominciamo. Cleferi non è particolarmente difficile da buttare giù. Anzi. Che brutto colpo. Scottato. E usa Metronomo. È vero. Può usare Metronomo. Quindi può usare qualunque mossa. Del gioco. A caso ovviamente. E Pantanobomba proprio doveva usarmi. Ma non ne importa. Soffri per l'ascutatore mio caro. Brucia mio caro. Brucia. Continuerò ad usare mosse speciali. Soprattutto contro Cleferi. Perché? Perché lui. Lei. Ha l'abilità. Non mi ricordo come si chiama però. Che. Com'è che si dice? Adesso posso usare rotafuoco. Ma. L'abilità che fa infatuare i Pokémon. Se li toccate insomma. Quindi attenzione. Se non sbaglio eh. Comunque. Cleferi sconfitto. Un bel po' di punti esperienza. Non saliamo di livello. E ora. Miltank. Per chi ha giocato a Cristallo. Soprattutto a Cristallo. Miltank. È un osso duro. Letteralmente. Un Pokémon. Con difese. Per questo punto del gioco. Bestiali. Con HP. Molto. Buoni. E con delle mosse. Che vi distruggeranno. Ad esempio. Questo coso. Mio cari. A buon latte. Che cosa? Mi ne resta solo uno. Ma non ti darò comunque il filo da torcere. Adesso. Questo coso. A buon latte. Può curarsi. Ed è per questo. Che dato che usa solamente attacchi fisici. Io. Utilizzerò. Ekans. Come. Uno. Vittima sacrificale. Due. Per diminuirgli l'attacco. Ed è una cosa che devo fare. Ok. Usa pure Pestone quanto vuoi. Non mi interessa. L'attacco deve essere diminuito. Almeno di due o tre punti. Già così. Sono due punti. Mettendo anche Rattata. Sono tre punti. E teoricamente potrei anche usare Togipi. Ma non voglio rischiare. Perché magari è un brutto colpo. Quindi. Mettiamo Rattata. Vai. Rattata. E Pestone. Non importa. Va benissimo la cosa. Non mi interessa. Devo perdere i punti vita. È brutto detto così. Però devo perdere i punti vita. Perché l'attacco di questo coso. Deve essere diminuito. Inoltre. Questo dannatissimo coso. Perché l'hanno fatto per darmi fastidio forse. A Bacca Prugna. Ciò vuol dire che se lo infliggete con tipo Paralisi. Confusione. Sonno. O altro. Si toglierà. No. Facciamo una cosa. Tre dovrebbero bastare. Quindi vai con veleno spina. Magari manca. Che ne so. Quindi. State particolarmente attenti. Ok. È un osso. Duro. Ripeto. E adesso. Parte 2. Della strategia. Sconfiggiamo Miltank. Mandiamo Maxwell. Che deve essere allenato. E. Flash. Può anche paralizzarsi con statico. Per questo. Ah. Perfetto. Va bene. Ora. Quando usa Pestone. Fa contatto. Quindi. Se si paralizza con statico. Cosa che non ha fatto. E poi. Noi usiamo Tuanonda. La Bacca Prugna. Beh si attiverà. Comunque si attiverà anche adesso. Quindi vai. Po. Po. Turututu. Ciao ciao paralisi. Ma. Usa ancora Pestone. Tanto non mi fai niente adesso. Che bello. Ah. Sprecato un turno. Non importa. Ora. Parte 3. Della strategia per sconfiggere Miltank. Flash. Già. Non ti farò fare nulla mio caro. Hai l'attacco meno 3. Hai precisione meno 1. E comincerei a mancare. Ad essere paralizzato. A tutto quanto. Non mi toccherai più. Deve soffrire questo Miltank. Deve morire male. Questo Miltank. Ok. Oh no. Attrazione. Come farò a resistere. Non ho mica un altro Pokemon. Che ha. Una mossa che diminuisce la precisione. Eh. Eh. Secondo voi perché ho lasciato un muro di fumo. Odio troppo Miltank. E molti di voi. Hanno scritto nei commenti tipo. 4 episodi fa ovviamente. Che. Oh mio dio Tonks. Eh. Urlerà. E darà di matto. Quando andrà contro Miltank. Eh mi spiace. Bacca prugna. Usata mio caro. Eh. Paralizzato. Ok. Eh. Muro di fumo. Subito. Meno attacco. Non può farmi più nulla. Ok. Nulla di nulla. E adesso possiamo anche controllare. Bracere. E. Verete quanto poco gli facciamo da nazione. Eh. E ruota fuoco. Quale fa più male? Tanto per controllare. Boom. Ah. Ruota fuoco sì. Aha. Fallisce. E adesso botta in testa. Quanto fa invece? Pam. Posso anche farlo tentennare. Brutto colpo. Pestone. Ora. Controlliamo se non è brutto colpo. Eh. È semplicemente scandaloso. Davvero? Non mi interessa. Super pozione. Continua pure ad usarla. Non mi interessa. Adesso. Miltank è una spina nel fianco. Nei piedi. Nell'occhio. Nel bacino. E nella carotide. Perché? Perché può appunto usare buon latte. Può curarsi senza le super pozioni di Chiara. Ed è per questo che è un rompiscatole. Ma fortunatamente per noi. Non crittarmi. Ok. Dovrei stare a posto perché botta in testa. Tentennamento. Hai la precisione meno. Deve. Ok. Perfetto. Continuiamo così. Deve. Devo distruggere questo Miltank. Attenzione perché ha anche rotolamento. Quindi. Occhio. E adesso. Fine. Senza nessun problema. Sconfitto. Ok. Un bel po' di punti di esperienza per Astaroth. E per Maxwell. E. Abbiamo sconfitto Chiara. Aia. Che rabbia. Che rabbia. Devi bruciare nelle fiamme degli inferiore. Ed è per questo che ho preso Astaroth. Per bruciarla. Comunque. Oh no. Hai fatto piangere Chiara. Ma non è niente. Prezzo sarà meglio. Fa sempre così quando perde. Una bambina. Mi ricorda. Sapete chi? Sapete chi mi ricorda? Per logica. E per odiatura. Perché la odio. La regina di cuori. Di Alice nel Paese delle Meraviglie. Già. Eh. Che vuoi ancora? Una medaglia? Ah dimenticavo. Ecco la medaglia piana. E' questa che vuoi no? Con la medaglia piana i Pokemon possono usare forza anche fuori dalla lotta. Vero. Ho ancora qualcosa per te. Tieni. L'MT45 che contiene attrazione. Giusto? E attrazione serve per sfruttare appieno il fascino dei Pokemon. Se dici a una carina come me vero? A proposito. Se da poi prosegui a nord troverai un grande impianto sportivo. Il Pokéflon. Aggiungerei. Esclusivo di questi due giochi. Ossia HeartGold e SoulSilver. Che ha appena aperto. Visto che te la gavi così bene con i Pokemon. Che ne diresti di andare a dare un'occhiata? Magari. Magari. Ma adesso no mio caro. Adesso no. Ora. Usciamo da questa palestra. Andiamo al casino. E finiamo l'episodio. Ho la gola che mi brucia. Davvero tanto. E basta. Casino. Molto rapidamente perché non voglio stare lì cent'anni. E basta. Ora. Niente qui. Davvero? Mi ricordavo qualche altra cosa qui. Ma forse mi confondo. Adesso. Casino. Stupido. Il casino. Chi ha avuto la... Comunque. Qui scriviamo i due oggettoni con dei premi stupendi. Abra. Sand Shrew. E dratini. Già. Qui si può già prendere dratini. Inoltre. Sand Shrew dovrebbe essere esclusivo di Heart Gold. Quindi qui si può prendere Sand Shrew. Credo. Non ricordo. E tu invece. Altri premi. Ossia. MT. Sostituto. Danza spada. Riposo. Lancia fiamme. 10.000 gettoni. Oh mio dio. Geloraggio e fulmine. Questa è una cosa orrenda. Perché i gettoni si possono vincere solamente e completamente a caso qui. Non si possono comprare. Ed è una cosa orrenda. Comunque. Vai. A quanto parti serve un salvadanaio per giocare? Oh. Ehi tu. Vuoi partecipare al mio gioco a gettoni vero? Te lo togli un salvadanaio. Vieni qui. Ora. Se giocate alla versione credo giapponese. Il salvadanaio si troverà nei sotterrani credo. Comunque. Io sono G. Oko. Già. G. Oko. Il mio gioco a gettoni ha passione ed emozione a un sacco di persone. Ma anche no. Fa schifo. Dammi. Dammi. Sì sì sì. Dammi. Dammi. In fretta. Ok. Adesso. Facciamo il gioco. Fammi emozionare e appassionare con la tua bravura. Ora. Vuoi giocare a Giravoltorp in livello 1 o regole? Subito. Che vorrete sapere? Come giocare? Al Giravoltorp dovrai voltare dei pannelli e trovare dei numeri nascosti. Vero? È tipo un campo abbinato. Dietro i pannelli ci saranno dei numeri 1, 2, 3 e Voltorb. Il numero che comparirà voltando il primo pannello ti assegnerà un certo numero di gettoni. Dal pannello successivo in poi il numero svelato fungerà da moltiplicatore dei gettoni raccolti. Quindi ricorda che 2 o 3 aumenteranno notevolmente il totale. Vero? Se scopri un Voltorb invece il gioco si conclude e i gettoni raccolti fino a quel momento vengono perduti. Vero? Scegliendo Ritira puoi lasciare il gioco con i gettoni. Vabbè sì in pratica ritirandovi considerate i gettoni. Una volta girare tutti quanti i pannelli si passa al livello successivo. Più in alto il livello e più i gettoni puoi vincere. Quindi cominciamo. Niente. Gioca. Adesso c'è un Voltorb qui. 1, 1, 2. 1, perfetto. Quindi. Qui ce n'è 1 sempre. 2, perfetto. Sapete una cosa? Mi sembra che il totale sia 6, giusto? Quindi qui. Ah, dannazione. Non mi ricordo per niente come funziona questo minigioco. Ed è completamente random. Non riesco a giocarci bene. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi vai. Proviamo un attimo a controllare altre regole. Consigli. I numeri ai lati della tabella indicano la somma totale delle cifre nascoste. Vabbè ragione. Più sono alti è maggiore la probabilità che dietro che i pannelli di quella colonna o di rica si nascondono due o tre. Vero. Attenzione. Allo stesso modo è possibile intuire il numero di Voltorb nascosti in quella riga o colonna. Nel voltare i pannelli tiene attenzione in considerazione bla 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 bla. E adesso l'ultima cosa. Info sul memo. Se scegli apri memo e puoi mettere delle note sui pannelli. Vero. Un numero tra uno e tre oppure Voltorb. Se pensi di aver indovinato cosa c'è tocca apri memo e quando il pannello bla bla bla. In pratica è letteralmente campo minato. Quindi proviamo a... Prato di ferito non campo minato. Ora. Zero Voltorb. Quindi subito qui. Sette. Quindi è una cosa molto buona. Qui c'è una tre Voltorb. Qui quindi non fate niente. Ehm. Rischio. Oh. Lo sapevo. Danazione. In pratica il gioco è così. Beccate i Voltorb con zero punti. Ehm. Sì. Prova. Qui per esempio. Ci sono nove. Quindi qui ci sono un sacco di roba. Uno. Tre. Uno. Tre. E uno. Quindi. Ritiriamo i gettoni. Sì. E ora ricominciamo. Voltorb livello uno. Giochiamo. È molto complesso. Ripeto. Quindi attenzione. Inoltre non posso neanche sapere quali sono e dove stanno. Perché è una cosa stupida. Però qui fortunatamente non ci sono niente. Quindi possiamo comprendere tutti i gettoni che vogliamo. Ora. Qui abbiamo tre. Ci sono due Voltorb. Quindi. Siamo attenti qui. Cinque sette sei. C'è un Voltorb solo. Rischio. Ok. Non rischio più. Ritira. Sì. Vedete. È una cosa stupida. Io odio questo minigioco. Non ha senso per me. Non riesco a giocarci. Se qualcuno di voi sa come giocarci. Me lo dica subito. Perché. Voglio saperlo. Ok. Qua c'è otto come somma. Quindi. Attenzione. Voltorb. Oh. Bene. Qui c'è un Voltorb. Quindi. Voltorb. Sì. Voltorb. Posso? Oh. Come si fa? Ok. Qua c'è un Voltorb di sicuro. Poi. Qua zero. Quindi possiamo fare tutto quanto a questa riga. E ora. È una specie di sudoku. Dobbiamo. Un campo minato letteralmente. Dobbiamo trovare le cose giuste però. Vedete. Uno. E. Voltorb. Vedete. È una cosa stupida. Come faccio io a trovare tutti quanti i posti giusti? Sono sicuro che c'è un qualche modo. Io sono scemo io però. Vai. Sì. Giochiamo un'ultima volta. Zero. Quindi sono sei gettoni. Perché c'è un due. E poi un altro due. No un altro uno. Dannazione. Vai. Uno. Voltorb. Vedete. È una cosa brutta. Non riesco a giocarci bene a sto gioco. Ripeto. Se qualcuno di voi ha un trucco per finirlo. Me lo dica perché così posso prendere anche strumenti da qui. Ok. Detto questo. Dopo l'orrendo casino. Il bellissimo casino che abbiamo fatto a quel Miltank. Noi ci vediamo nella prossima parte di Pokémon versione SoulSilver. Andando avanti nel percorso 35. Quindi. See you next time.